1, 2, 3, ci siamo? Robi Facchinetti e Riccardo Fogli, benvenuti a Duerighè.com una collaborazione che già era nell'aria con i vostri video su Facebook diciamolo, ma già stavate pensando a questa cosa mentre realizzavate questi video? oppure ancora non era definitiva? Beh, diciamo che questa idea è nata fin dall'inizio, no Riccardo? Con i video è cresciuta? Con i video è cresciuta? Forse magari sì, perché noi con i video siamo partiti da molto lontano ma già lì i giochi erano fatti Già, quindi è stato anche forse un piccolo test Non lo so se erano fatti, 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 fatti noi a volte sembravamo fatti carina questa? No, questa cosa non lo devi dire perché c'è qualcuno che magari ci crede Ho detto sembrava, sembrava Allora, questi nostri siparietti, chiamiamoli sono nati dopo, sicuramente dopo Perché mi sono nati, perché non, ah, è così, perfetto, facciamo i siparietti allora Ah, va bene Ah, ecco, quindi è stato, diciamo, un'anteprima dell'album È stato l'anteprima, sì, un po', sì, delle piccole anticipazioni Bene, prima in conferenza avete detto che comunque il vostro, tra virgolette, compito è quello di onorare insomma quella che è stata la vostra carriera con i Poo e tutto il vostro repertorio che è leggenda nella musica italiana È un po' come se i Poo continuassero, cioè una strada parallela non proprio parallela, però come se continuassero a esserci Beh, è una strada, sì, possiamo usare anche questa parallela con tanto rispetto però perché i Poo hanno messo insieme una storia straordinaria e adesso che ognuno di noi è libero comunque di fare quello che più gli diverte, che più gli piace perché siamo assolutamente liberissimi di fare qualsiasi cosa di andare anche a rivisitare il nostro repertorio e come ho detto questa mattina anche in conferenza stampa dobbiamo, credo che abbiamo questo grande dovere di valorizzarlo e valorizzarlo sempre di più questo è un po' il nostro, no? Cosa dici? Il nostro mestiere, facciamo musicisti che facciamo? Che fai? Che cosa fai da grande? Continua a fare musicista Sì, però adesso parlando anche del lui, diceva, tu hai sentito quello che ha detto lui? Ho sentito, io sono qua, che sono attentissimo, ascolto che cosa... È come se non avessi sentito quello che ho sentito Ho capito cosa vuoi dire, di continuare, valorizzare non è che noi siamo il seguito dei Poo, non ci appropriamo di una cosa i Poo non esistono più No, lui ha usato un'espressione molto bella questa, no? Linea parallela Linea parallela Linea parallela La parallela è mica la linea parallela Che non è, perché i Poo sono ripetibili però possiamo in qualche modo, insomma, continuare e andando a, perché no, a rivisitare anche il nostro repertorio con molto rispetto Ma quando cominciamo? Anche subito Ma subito, infatti nel comunicato di presentazione c'è scritto due grandi amici e due grandi artisti Quando è che questo essere amici è stato positivo e quando invece magari proprio per questa amicizia magari non lo è stato propriamente positivissimo? Guarda, facendo musica facendo musica a mio avviso il rapporto è fatto di rispetto di affetto poi quando si parla Cioè c'è affetto è meglio Noi chiamiamo fratelloni fra di noi ma ti dico che forse sotto certi aspetti il fratellone è anche forse riduttivo perché quando si fa della musica insieme e ci deve essere assolutamente rispetto, considerazione tutto un insieme di valori che se non ci sono non ti divirti neanche Se non ci sono è peccato perché gli affetti arricchiscono tutto il lavoro che fai Passiamo delle giornate intere insieme seduti, sgapelli se non ci fosse affetto alla fine anche il fatto che uno dice prendiamo un caffè certo prendiamo un caffè se tu dici ma no perché il caffè l'hai preso prima non esiste se tu c'hai l'affetto per una persona ti viene voglia di bere un caffè con lui anche quando non lo vuoi sembra una cavolata leggera però è così Beh questo ovvio sì questa è condivisione Condivisione e poi non dimentichiamo che facciamo musica fare musica significa ascoltare significa condividere significa veramente tanto avere una certa sensibilità parecchie cose non si riescono neanche a spiegare neanche a dire giusto? spiegare voglio aggiungere qualcosa? no devo dire che condivido quello che hai detto passiamo alla terza domanda ok insieme è stata comunque la parola che vi ha sempre nella vostra carriera accompagnato perché insieme con i Poo e adesso insieme voi due qual è la vostra definizione di insieme? cosa vuol dire per voi star insieme? che comunque è una parola forte anche come titolo dell'alto bellissima è una parola bellissima due stanno insieme quando stanno insieme? no due diciamo di stare insieme perché ci sono dei presupposti belli sì no altrimenti tu non diresti neanche la la mia moglie mi dice certo che ora stai più con Facchinetti che con me stai sempre insieme insieme allora gli ho detto dice a mia moglie che stiamo sempre insieme e Facchinetti ha detto ci chiamiamo l'album insieme eh sì insomma diciamo che insieme è una bella cosa la strada lunga non diresti mai ti ripeto a una persona facciamo questa cosa sì però facciamolo insieme bellissimo bellissimo no trovo poi devo dire che nel nostro caso il titolo insieme è veramente indovinatissimo anzi nel primo momento addirittura era un altro titolo ora lo possiamo dire ora lo possiamo dire era strade perché comunque ha un significato molto bello importante però strade in qualche modo lo devi spiegare strade ma perché strade sì perché strade della vita no dove su queste strade tu hai fai degli incontri più o meno importanti della tua vita ecco perché e comunque dovevi in qualche modo aggiungere del mezzo discorso mentre invece insieme no no qual è il titolo insieme ah ecco capito questa è la risposta e non è poco non che da veramente senza aggiungere nulla esattamente lo spirito e la filosofia di questo vero di questo progetto perfetto ora siamo arrivati all'ultima domanda di solito noi l'ultima domanda la dedichiamo a dare un messaggio ai giovani che stanno iniziando questo percorso e una cosa coniutiniamo tanto è parlare della formazione cioè voi come dopo 50 anni di carriera come vivete la vostra formazione cioè tanti hanno dichiarato di essere seguiti da vocal coach da comunque continuare a fare training invece voi come la vivete questa formazione ma guarda se parlo questo è un mestiere che io l'ho imparato facendolo perché non c'è non c'è un'università non c'era non c'era perché ora ora è un po' più facile ti insegna ti insegna a fare questo lavoro questo lavoro lo impari facendolo credo però i vocal coach di cui stiamo parlando adesso ci sono 50 anni fa c'era un maestro che picca 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 poi tu stava facendo ti facevi da solo imparavi il tuo mestiere non è vocal coach ma la formazione comprende veramente tantissimo il vocal coach voglio dire è anche un po' psicologo un po' più ti guarda dentro ti aiuta a cantare bene ma ti aiuta anche a crescere a trovare la strada questo io penso che sia vedendo il questo è un aspetto questo è un aspetto questo lavoro è fatto di veramente tantissime sfaccettature mille sfaccettature che la museo party se non quasi tutte queste sfaccettature le impari facendolo picchiando delle capocciate spesso quando quando si dice adesso purtroppo non si usa più no la famosa polvere del palcoscenico perché è proprio lì soprattutto per una band ancora di più è proprio lì che ti confronti è lì che cresci è lì che impari a fare questo a capire come funziona questo lavoro e quali sono le cose che funzionano di più le cose che funzionano di meno come perfezionarti anche a livello musicale quindi si vabbè io conosco delle persone che dei musicisti che studiano anche 7-8 ore al giorno sullo strumento però non basta perché se poi non ti confronti con altri musicisti su un palco perché è lì poi alla fine che diventi un vero musicista quindi consiglio che diamo ai giovani è quello di studiare e di confrontarsi e se avete un vocal coach che vi guida un po' se cantano cantate se è un gruppo che fa pesi strumentali tipo? però volevo dire volevo dire che vocal coach e poi vocal coach ti anche da solo si scoccia vocal coach ti da solo perché vocal coach ti guida fin lì chiaramente le indicazioni però indicazione questo per carità i consigli vanno benissimo poi questi consigli innanzitutto devono essere messi poi in pratica però devi fare se stai a casa tua non vai da nessuna parte ecco questo vorrei dire fate delle band il discorso delle band è importantissimo formativo perché sono importanti insomma suonare insieme altrimenti non si chiamerebbe lo band band senti che bello suono in una band si chiamavano complessi negli anni complessi invece l'altro che fai? io canto complesso io canto invece suono in una band perché una band si presume che tu concerti e concertare arricchisce tu suona la chitarra con la suona al basso con la batteria ognuno porta qualcosa e viene fuori una band che concertano quindi il consiglio è uscire di casa imparare a suonare e poi fare delle band fare degli ensemble bene ensemble sì insomma più o meno così grazie mille grazie a te grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti